Salve a tutti cinepresi e ben ritrovati. Vi sarà capitato, se siete andati in sala in uno di questi giorni, di queste settimane, di vedere uno spot molto particolare prima dei trailer e prima del film, intitolato Un'estate di cinema. In questo spot, molto breve, di 30 secondi, vengono elencati i maggiori titoli della stagione, titoli come Spider-Man Far From Home, Hobbs and Showman in Black Story 4 e così via. È una cosa piuttosto insolita, vedere uno spot del genere prima di un film, prima dei trailer normali. E quindi oggi volevo discutere con voi riguardo a questa iniziativa, l'iniziativa Estate di cinema, che, come scopriremo, è stata promossa dall'industria cinematografica assieme al Ministero dei Beni Culturali. Di che cosa si tratta? Dovete sapere che l'Italia è un mercato decisamente anomalo all'interno del panorama cinematografico mondiale. Questo perché, normalmente, come vediamo in America, soprattutto, le grandi stagionalità del cinema sono piuttosto piatte, nel senso che c'è un grande successo in America dei titoli sia d'estate che d'inverno, in autunno e anche in primavera. Ma che cosa succede in particolare nell'estate americana? Quando i ragazzi finiscono l'università, il college, la scuola in generale, hanno un po' più di tempo libero. E quindi, che cosa succede? Vanno al cinema e vanno a vedere dei film considerati blockbuster di grande intrattenimento. La stagione estiva americana è fatta veramente da il genere action, il genere fantasy, e sono titoli che incassano parecchio, soprattutto sul pubblico più giovane e meno cinephil, per così dire. In Italia, invece, questa tendenza è esattamente invertita. Noi abbiamo una fortissima stagionalità. L'inverno, come sapete, è la grande stagione del cinema, in particolare nel mese di dicembre, dove gli incassi si duplicano letteralmente, i grandi film, vediamo anche i grandi film italiani, come i cinepanettoni, grandi film nel senso di incassi, si intenda, o i film di Checco Zalone, tendono a uscire in quella stagione. Perché? Che cosa succede? In Italia, d'estate, i cinema vanno deserti. Sembra che gli italiani perdano l'interesse nella stagione cinematografica. Probabilmente è l'estate, probabilmente è l'attrazione del mare, il caldo affoso che abbiamo. È un grande mistero, non sono io che so risolverlo, è una questione che va veramente avanti da tanti, tanti anni. Solo che ogni estate il cinema italiano sembra andare un pochettino peggio. Che cosa è successo? Quindi da un po' di anni il Ministero delle Attività e dei Beni Culturali si sta interrogando su come provare a rilanciare l'estate del cinema italiano. Il pensiero è quello di, chiaramente, in una cinema che da una ventina di anni eroga 100 milioni di biglietti, più o meno, cifra in più, cifra in meno, però più o meno è stabile, nonostante si continui a dire della crisi del cinema italiano. Il cinema in realtà è abbastanza stabile su dei livelli di vendita piatti. Si pensa che potenziando il periodo estivo, dove si perde quasi un 50% degli incassi e dei biglietti strappati al cinema, semplicemente con un calcolo matematico si potrà aumentare l'incasso globale annuo del cinema in Italia. È una posizione estremamente leicita, abbiamo visto che ci sono stati tanti tentativi da parte appunto dei legislatori e dell'industria cinematografica, intendo soprattutto i distributori, che sono coloro che ci portano il cinema in sala, di rilanciare queste stagioni un po' più mosce, per così dire, come ad esempio i Cinema Days, giornate speciali dove il cinema è scontato, quindi il cinema viene proposto a 3 euro. Si è tentato di fare il movement, che è questo grande movimento appunto, che vuole portare il grande cinema, secondo il claim, il grande cinema a tutti i mesi dell'anno. È un tentativo molto lecito che però, secondo me, presenta alcune grosse problematiche. Chiaramente chi vi parla, ma penso anche chi sta guardando questo video, si augura che l'iniziativa abbia successo, che il cinema riesca a recuperare il fascino anche d'estate. Detto questo, noi siamo qui a discutere sul modo, non sul cosa, ma sul modo con cui stiamo cercando di rilanciare il cinema d'estate. In primo luogo, guardando i titoli, c'è un grandissimo problema. Infatti, nelle intenzioni del Ministero c'era quello di rilanciare il cinema a to court, sia il grande blockbuster americano che il grande cinema italiano. Ma vedendo il listino, Spider-Man Far From Home, Toy Story 4, film anche di qualità, la Marvel, la Pixar, non ci sono però i film italiani, perlomeno non sono pervenuti, sicuramente usciranno in sala in quel periodo, ma rischiano seriamente di venire mangiati dei cosiddetti blockbuster americani. Il pubblico del cinema di qualità, e di fatto il pubblico italiano è anche un pubblico che cerca la qualità, sotto molti aspetti, non vanno per forza bene nei film d'azione, i film per ragazzi. Abbiamo visto casi come Bohemia Rhapsody o Green Book, che sono andati molto bene al box office. Il pubblico però, che appunto cerca la qualità, rischia veramente di rimanere deluso. La stagione americana, quindi una stagione con un target prettamente thin, viene riportata poi anche in Italia. Questo è molto rischioso, soprattutto per la nostra piccola industria. Un'altra grande problematica è quella, secondo me, di abituare il pubblico all'offerta cinematografica ricca d'estate. Per molti anni il cinema e la qualità cinematografica è anche calata d'estate, perché i distributori tenevano i film più importanti giustamente per settembre, ottobre, quando la stagione ricominciava e la gente ricominciava a interessarsi ad andare a vedere il cinema in sala. La disertava le arene estive, che sono un'altra realtà molto forte in Italia e nel resto del panorama mondiale, in particolare in America, che è il modello che noi stiamo guardando in questo momento, non mi è noto, che siano così potenti come le arene estive italiane. Il cinema all'aperto, per intenderci. Bisogna quindi abituare il pubblico ad avere un'offerta di qualità, un'offerta forte, all'interno della sala cinematografica. Si parla spesso dell'aria condizionata, che deve essere uno degli incentivi per andare al cinema, ma io resto convinto che l'aria condizionata per noi italiani, che in realtà il caldo ci piace anche abbastanza, vogliamo abbronzarci e lo sopportiamo decentemente, non sia il vero e proprio incentivo. I film belli, da sempre, dall'alba dei tempi, sono il grande incentivo per andare al cinema. Bisogna anche considerare che molti monosala, che sono delle tipologie di sale molto spesso gestite da persone che o sono volontari o sono appassionati di cinema, o comunque non fanno quello come unico lavoro, perché non portano un reddito tale da potersi mantenere solamente con la gestione di quella monosala, d'estate giustamente chiudono o comunque allentano un po' la loro programmazione mensile. E questo porta a un grandissimo buco. Le monosala solitamente sono sale di periferia, che vanno a coprire un po' tutti i territori, che non sono coperti, dei grandi multiplex. E chiedere a degli spettatori di affrontare 20, 30, 40 minuti di macchina per arrivare al cinema più vicino, quando l'offerta magari non è proprio e totalmente imperdibile, potrebbe rischiare di essere veramente una richiesta eccessiva, che quindi porta al fallimento di questa iniziativa. Non basta volere fare grande cinema, non basta portare i grandi film, diciamo così, d'estate, bisogna anche crederci, quindi mi aspetto in questi mesi che ci separano appunto dal pieno dell'estate di trovare delle campagne promozionali che abbiano un budget e una creatività pari a quelle che troviamo negli altri mesi dell'anno, perché altrimenti rischi di essere veramente solo un riempirci la bocca di un'offerta che poi di fatto non esiste perché dal pubblico non viene percepita come tale. Io non credo nella scontistica, credo nel grande cinema, e spero e anzi credo veramente che il cinema italiano possa rialzarsi, non tutto è perduto nella nostra stagione estiva, bisogna solamente trovare la chiave e la continuità soprattutto per arrivare a un pubblico e a un gruppo di spettatori sempre più vasto, magari sempre più appassionato. Grazie a tutti quindi, fatemi sapere che cosa ne pensate, se avevate notato questo tipo di spot e questo tipo di iniziativa, se vi è piaciuto il video sapete cosa fare, noi ci vediamo sempre qui su Cinepreso, ciao a tutti! Grazie a tutti!